PIPA in Ginepro Sardo, modello Cornetta Freehand, fatta a mano. Fabbricazione Paronelli Pipe. Finisaggio Sea Coral, cannuccia e innesto in metacrilato nero. Dimensioni, lunghezza 14 cm. Altezza testa 4,6 cm. Diametro esterno a fornello 4,7 cm. Diametro interno a fornello 2,4 cm. Peso 36 grammi. Diametro interno a fornello 3.5 cm. Tego 37 grammi. Diametro interno a fornello. Maangedro interno a fornello 9,0 cm. Grazie a tutti.